Signori ma lo sapevate che in alcuni siti è già possibile preordinare addirittura GTA 6? Non lo sapevo neanche io e l'abbiamo scoperto in live Scoprirete tutto vedendo questo video Ah e oltre a questo ci vediamo in live questa sera alle 20.30 Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Iniziamo Ma secondo te? Secondo loro lavori tu non hai chiesto? Può essere... Cioè dipende dai punti di vista Si accetta i cookie in culo Quanto... quanto costa GTA 6? Oh pezzo di merda Ah devi iniziare Se in questo periodo si è tanto parlato di GTA 5 Insomma del fatto che il trailer non sia piaciuto per ovvi motivi Piccola parentesi Vi ricordo che è uscito un trailer che ha rimandato a marzo l'uscita di GTA 5 Dedicato a PS5 Ovviamente la gente non l'ha preso molto bene Si è parlato anche molto ovviamente come sempre di GTA 6 Parliamo un attimo però di questo trailer di GTA 5 Uno dei trailer probabilmente nella storia dei videogiochi Che ha ricevuto più dislike Insomma ha ricevuto veramente un sacco di dislike Come era ovvio che fosse Grazie a Diamond Falcon per aver rinnovato l'abbonamento Perché... ma che cazzo? Ma tu come cazzo ti permetti a farmi vedere un trailer così Di merda tra virgolette Perché non hanno mostrato assolutamente nulla di ciò che interessava a noi A noi interessava vedere tante altre cose non quelle che hanno mostrato E in cui addirittura rimandi anche il gioco e fai vedere che la grafica è la stessa Bene Dopodiché riguardo al canale di Rockstar In questo periodo si è parlato anche tanto di GTA 6 Riguardo una cosa Una piccola cosa che hanno fatto A quanto pare GTA 6 come parola è stata bannata sul canale di Rockstar Games Cosa che secondo me si poteva tranquillamente evitare Molti hanno provato a creare magari nuovi account Cercando appunto di scrivere commenti con quei nuovi account E a quanto pare risultavano sempre rimossi i commenti di queste persone Per il semplice fatto che appunto Rockstar Games ha messo nelle parole bandite del canale suo Che sia magari quello inglese, quello internazionale, insomma quello italiano GTA 6 In tutte le varianti insomma Buonasera Samir di Russia ben arrivato E questa è una cosa un po' idiota secondo me Perché se la gente parla di GTA 6 sotto ai video del canale di Rockstar Games Secondo me è inutile che vengano rimossi i commenti Che cazzo di senso potrebbe mai avere Ma a quanto pare da cosa si è potuto evincere In conseguenza qualche esperimento che ha fatto un sacco di gente E questo è quanto Effettivamente è così Ma che cazzo mi chiudete la porta che non mi arriva aria dal condizionatore Che muoio di caldo Eh non parlate Nel fondo assorbente? Sì nell'aria Cos'è tipo Tipo alto Giovanni e Giacomo Che cazzo urlico da dentro la macchina con i finestrini chiusi E lui gli fa Ma avevi detto che è insonorizzata Sì ma da dentro per fuori non da dentro per dentro Secondo me non ha nessun senso bannare GTA 6 come parola Come termine sul canale di Rockstar Perché non conto è se è un canale di un autore Di uno youtuber come me che dicevo Ma avete rotto i coglioni Con sto GTA 6 banno la parola Ma che Rockstar Games banni GTA 6 sul canale Non ha un cazzo di senso per quanto mi riguarda Penso converrete anche con me Ricordo questa cosa Penso sarete d'accordo anche voi Però dopo voglio andare Ne parlo proprio alla fine Adesso voglio andare a vedere un po' di notizie Su Google notizie Riguardo GTA 6 Andiamo Tanto ragazzi Prima di continuare Vi ricordo del solito video Dei due video in realtà Settimanali Di ricattegli abbonati Che sono usciti Molto divertenti Secondo me Se volete vederli Potete abbonarvi gratis Con Amazon Prime Collegando la Twitch Trovate tutti i link Qui sotto in descrizione E trovate la guida completa Appunto per abbonarvi con Amazon Prime Collegando la Twitch Escono gli stessi video in parallelo Sia su Youtube Che su Twitch Fateci un pensiero Mi raccomando Oddio GTA 6 è ambientato In Miami E annuncio entro fine anno Il nuovo Dubbio rumor Oh almeno scrivono Dubbio rumor Attenzione Vediamo un po' Vediamo Venghino notizie Fake Venghino A lanciare la nuova Dubbi in discrezione Death So Bold Oddio Un altro che probabilmente Vuole guadagnarsi fama Parlando di GTA 6 Come si chiama L'altro tizio Tom Anderson Tom Anderson Mannaggia a lui Cioè mi piacerebbe averla Ma non ce li ho Diecimila euro Da spendere In una tv QLED 8k Grazie Un canale Instagram Youtube Comunque Death So Bold Che offre notizie Generalistiche Che quindi non sembra essere Strettamente legato Al mondo dell'industria Videoludica E già E già Se me lo dici così Guarda Stando a quanto affermato In un recente post Dell'account L'annuncio di GTA 6 Sarebbe dietro le porte Rockstar avrebbe scelto Miami Come ambientazione Designata Per la sua prossima avventura Certo che l'asticella L'hanno proprio abbassata L'hanno abbassata Completamente Al minimo storico Gli va bene qualsiasi cosa Per farci notizie Allucinante Spariamo cose a caso Ci verrà presentato Tramite un trailer In arrivo Tra novembre Die Dai cembre Cioè muori cembre Attenzione GTA 6 sarà annunciato Tra novembre e dicembre Sì Ma abbi pazienza Scusami Ma Permettimi di dire una cosa Ma secondo te è possibile Una cosa del genere Se porca di quella puttana Ancora deve uscire GTA GTA 5 per PS5 Uragani Alligatori E altro E altro Cioè ci Ragazzi Ho una notizia Su GTA 6 Come ho detto Molto tempo addietro Questa è una notizia Veramente Lickata La so solo io Ci saranno Macchine Una mappa Degli elicotteri Una città Ci sarà addirittura Dei palazzi E delle armi Cioè Questa è tanta roba È tanta roba GTA 6 è un indizio Nel trailer di GTA 5 Next Gen Svela Cosa cazzo Svela Voglio sapere Svela l'ambientazione Oddio La targa di un'automobile Presente nel filmato Mostrato durante la PlayStation Experience Mette in luce una targa 61 SL 890 Oddio Rileggendola la targa Sembra infatti Mostrare Sixies Vabbè la targa Suggerirebbe Che GTA 6 Potrebbe essere Ambientato Alla fine degli anni 90 Ma vi interessa Davvero così tanto GTA 6 Ambientato negli anni 90 Ma che merda Sinceramente Ma anche no Ma vaffanculo Tra chi non riesce più a attendere C'è un fan tedesco Che nelle scorse ore È salito sul palco Di uno show televisivo In diretta nazionale Per chiedere al presentatore Del programma Informazioni Sulla data di uscita Di GTA 6 Ma sei normale Cioè ha aspettato GTA 6 per otto anni Ma gli devi insegnare Tu a fare il suo lavoro Cioè gli stai dicendo Guarda la telecamera Ma sei impazzito La cosa migliore Che possiamo fare È urlare Alla fotocamera Dov'è GTA 6 Ma io non posso credere Che sia successo davvero Sta cosa Arriva la security E lo porta Guarda Io spero davvero Che fosse prevista Perché se sta cosa Non era prevista Cioè questo È stato invitato Perché penso Si venga invitato Penso Non sia gente Completamente a caso Che va lì Insomma Penso Tu debba Avere dei requisiti Qualcosa Insomma Per venire invitato E insomma Ne ha approfittato Per far sta stronzata Quello che voglio vedere Più di questo È Un'altra cosa Un'altra cosa Che voglio vedere Se noi Invece che notizie Invece che notizie Guardiamo Shopping Cercando GTA 6 Potrebbero comparire Così Vabbè compare Instant Gaming Tra l'altro Ne approfitto Per ricordarvi Che sono sponsor Di Instant Gaming Giochi scontati Credito scontato Per console e PC Sarà breve disponibile Come sempre Il contest mensile Grazie al quale potete vincere Qualsiasi gioco A vostra scelta Anche disponibile Come stavo dicendo Fino a poco fa GTA 5 Per PC A meno di 10 euro Fateci un pensiero Tutti i link Qui sotto in descrizione Comunque Qui abbiamo Kinguin Punto net Ed eccolo qua L'avevo già vista Sta cosa Ma è veramente Grand Theft Auto C'è Grazie Jack Mac Per esserti abbonato Gentilissimo C'è solo Grand Theft Auto Basta Sono neanche 6 Prima c'era il logo Con scritto il 6 Sai No adesso così Preordino ora Ma io non voglio sapere Cosa mai potrebbe succedere Se io dovessi Preordinarlo effettivamente E io non voglio Veramente sapere Cosa potrebbe succedere Cioè questi Stanno vendendo un gioco Che non solo Ancora Non hanno a disposizione Ma che ancora Non è stato annunciato Insomma Ma Ma veramente Alla stregua della truffa Io non so Se Poi effettivamente Ti mandano In porto l'ordine Ti addebitano i soldi Io spero sia una Presa per il culo Ma lo stanno facendo Tanti siti Veramente Ora Per dire Parlando un attimo Di Instant Gaming Se voi cercate Su Instant Gaming GTA 6 Lo trovate Perché è un easter egg Insomma Non ho messo questo easter egg Ma non potete comprarlo Potete farvi notificare Quando torna disponibile Quando sarà disponibile Insomma Ma non potete comprarlo È solo un easter egg Vedete Quelli di Instant Gaming Sono bravi Questo è veramente Vergognoso E non sono i primi Non sono i primi C'è solo su Kinguin A quanto pare Vediamo Cerchiamo GTA 6 Così No Qua non si trova niente Hanno tolto tutto A quanto pare Solo lì C'erano molti Vabbè 350 euro Sarà da collezione C'erano molti altri Comunque davvero Tanti altri Che ora non ci sono più Quindi Boh Io spero che Spero che Insomma Ci siano state Delle conseguenze Se effettivamente Alcuni di questi siti Permettevano la debito E se non si trattava Solo ed esclusivamente Di easter egg Poi magari Putacaso Viene annunciato GTA 6 Ok Anzi Verrà annunciato Prima o poi Tra 2 3 5 10 anni 10 secoli Anzi Io Pretendo Se ho pagato O di ricevere il rimborso O di ricevere effettivamente Il gioco Non me ne frega un cazzo Poi di nulla Assolutamente Io Esigo poi ricevere il gioco Beh direi che Con il nostro appuntamento mensile Con GTA 6 Abbiamo concluso Vi ringrazio per avermi seguito finora E noi ci rivediamo Alla prossima